Una serata evento per festeggiare il primo compleanno. L'Inter Club Prato Nerazzurra compie un anno e continua a crescere. La campagna tesseramento, partita da poche settimane, ha già superato le 200 iscrizioni. L'obiettivo è quello di replicare il successo della passata stagione che ha visto circa 300 soci iscritti. Numeri importanti per un club giovane, ma tra i più attivi. Ospite d'eccezione della serata evento, l'ex fantasista nerazzurro Evaristo Beccalossi, con il quale abbiamo parlato di calciomercato dopo gli ultimi mancati arrividi di Bala e Bremer. Evaristo! 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 Io credo che negli ultimi anni sono stati un po' problemi calcisti da parte di tante società. L'Inter con Conte ha vinto dopo dieci anni un campionato. L'anno scorso con Simone Zaghi due competizioni, tenendo d'occhio il bilancio perché era una situazione difficile. Quest'anno probabilmente qualcosa si pensava di riuscire a fare, però credo che la squadra sia rimasta competitiva. Non vedo perché si debba andare a cercare sempre delle cose negative quando invece, secondo me, di base l'Inter sta operando bene, saremo competitivi e lotteremo con gli altri per vincere il campionato. Punto le altre cose. Basta, sono chiacchiere. Intanto a breve Prato Nerazzur avrà una nuova sede, l'ex cinema parrocchiale accanto alla Chiesa del Sacro Cuore ai Ciliani. I locali dovrebbero essere pronti a settembre. Ha 150 posti di poltrone da cinema con uno schermo da cinema e con la possibilità di introdurre altre sedie per arrivare a una capienza intorno ai 180 posti. Non vogliamo limitare il locale al match day, ma estenderlo anche a attività correlate. Ci sono tante idee molto buone, alcune anche a scopo benefico sociale.